Quando la cooperativa spesso ci ha proposto di fare una serie di incontri con artisti siamo stati ben contenti della cosa perché credo che sia essenziale che i ragazzi abbiano a che fare con la contemporaneità. Oltre che studiare la storia dell'arte, la storia della pittura, la storia della scultura, hanno la necessità di conoscere quello che in giro si fa e quello che in giro si propone. Così come abbiamo fatto la prima misura di data dell'anno alla Bionnale di Venezia, nel momento in cui ci è stato proposto di avere degli interventi anche su aspetti diversi dell'arte contemporanea siamo stati ben contenti di accogliere questa proposta. Convinti come siamo che l'artista, ma al di là dell'artista, i giovani oggi debbano avere un'apertura mentale a 360 gradi e devono diventare scettatini nel mondo. Quindi quante più esperienze possano fare. Grazie.